L'estate è alle porte e torna l'incupo delle zanzare a tigre. Spesso i più comuni accorgimenti non bastano per proteggere noi stessi e i nostri ambienti da questo fastidioso e talvolta pericoloso insetto. L'azienda Activa dal 2001 si è specializzata nel realizzare insetticidi e anti-zanzare per proteggere la persona in ambienti esterni. I prodotti No Fly Zone in che modo ci proteggeranno dalle zanzare? È un sistema integrato di protezione nel quale si usano diversi strumenti per proteggerci dalle zanzare utilizzando un po' tutti gli strumenti a disposizione, la prevenzione, la cattura, la repellenza perché per veramente proteggersi dalle zanzare che sono un problema grosso e sentito e anche di rilevanza sanitaria abbiamo bisogno di integrare le varie soluzioni. Ispirandosi al corpo di Marines, abituati ad operare ad alto rischio, è nata Zanzabreck. Zanzabreck è una soluzione assolutamente particolare ed innovativa proprio per le sue caratteristiche di massima efficacia, massima sicurezza e portabilità. Zanzabreck è un evaporatore praticamente di piastrine che produce un ombrello di 20-25 metri quadri di dimensione che protegge completamente al 98-99% le persone che intendiamo proteggere. I prodotti Activa li potrete ora trovare presso Floridea. L'efficacia dei prodotti Activia è testata del 98% con una sicurezza certificata dal Ministero della Salute. Il 4 e il 5 giugno potrete trovare presso Floridea professionisti Activa in grado di consigliarvi il prodotto più indicato per le vostre esigenze. E con l'occasione potrete scoprire le bellezze del reparto lavanda di Floridea dove troverete prodotti di cosmetica, toilette e per l'ambiente alla lavanda di Venzone. Floridea si trova in via Gardesane a Verona.